dagli atti degli apostoli in quei giorni agli apostoli agli anziani con tutta la chiesa parve bene di scegliere alcuni di loro e di inviarli ad antiochia insieme a paolo e barnaba giuda chiamato barsabba e sila uomini di grande autorità tra i fratelli e inviarono tramite loro questo scritto gli apostoli agli anziani vostri fratelli ai fratelli di antiochia di siria e di cilicia che provengono dai pagani salute abbiamo saputo che alcuni di noi ai quali non avevamo dato nessun incarico sono venuti a turbarvi con discorsi che hanno sconvolto i vostri animi si è parso bene perciò tutti d'accordo di scegliere alcune persone e inviarle a voi insieme ai nostri carissimi barnaba e paolo uomini che hanno rischiato la loro vita per il nome del nostro signore gesù cristo abbiamo dunque mandato giuda e sila che vi riferiranno anch'essi a voce queste stesse cose è parso bene infatti allo spirito santo e a noi di non imporvi altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie a stenersi dalle carni offerte agli idoli dal sangue dagli animali soffocati e dagli unioni illegittime farete cosa buona a stare lontani da queste cose state bene quelli allora si congedarono e scesero d'antiochia riunite all'assemblea consegnarono la lettera quando le beroletta si rallegrarono per l'incoraggiamento che infondeva ti loderò fra i popoli signore saldo il mio cuore o dio saldo il mio cuore voglio cantare voglio inneggiare svegliati il mio cuore svegliatevi arpa eccetera voglio svegliare l'aurora ti loderò fra i popoli signore ti loderò fra i popoli signore a te canterò inni fra le nazioni grande fino ai cieli è il tuo nome e fino alle nubi la tua fedeltà innalzati sopra il cielo o dio su tutta la terra la tua gloria ti loderò fra i popoli signore dal vangelo secondo giovanni in quel tempo disse gesù ai suoi discepoli questo è il mio comandamento che vi ammiate gli uni gli altri come io ho amato voi nessuno ha un amore più grande di questo dare la sua vita per i propri amici voi siete i miei amici se fate ciò che io vi comando non vi chiamo più servi perché il servo non sa quello che fa il suo padrone ma vi ho chiamato amici perché tutto ciò che ho udito dal padre mio l'ho fatto conoscere a voi non voi avete scelto me ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga perché tutto quello che chiederete al padre nel mio nome ve lo conceda questo vi comando che vi ammiate gli uni gli altri